Nelson, il campionato riparte con un convincente più 35 su Venafro, partita dal pronostico abbastanza chiuso in partenza e in ogni caso da secondo quarto in poi una prestazione positiva, soprattutto in difesa nonostante l'assenza. Eh sì, sapevamo che mancavano alcuni giocatori, venivamo anche un po' dalla sconfitta dalla Coppa Italia che secondo me un po' ci ha bruciato per come l'abbiamo approcciata e dopo il secondo tempo abbiamo fatto vedere e secondo me adesso ci concentriamo solo sul campionato e ci prepariamo a tutte le partite perché i playoff si stanno avvicinando. Prossima trasferta sul campo di Cassino, di sicuro un test probante già in prospettiva playoff per la caratura dell'avversario nonostante abbia perso stasera in casa contro Scauri e chiaramente anche il calore del campo uno di quelli su cui è probabile andare a giocare in trasferta appunto nella prossima. Ma guarda io le preferisco queste partite adesso così perché almeno ci preferiamo mentalmente i playoff è peccato che diciamo abbiamo solo Cassino e le altre così però il ritmo comincia adesso più si avvicina e più si alza la pressione, la difesa e si sente più il clima playoff. È una partita importante per un'esimo test per far vedere che dobbiamo trovarci pronti per i playoff. Grazie